Green Service è la soluzione ad hoc per dare un volto nuovo agli spazi verdi della tua città. Dalla potatura degli alberi, alla creazione e cura del tuo giardino, dalla sistemazione e sfalciatura delle strade private e pubbliche, alla manutenzione delle aree verdi in genere. Green Service, il verde più facile che c'è. E disse E' un anno che adesso deve fare lo scambio, l'amici non posso non vedendo, ma insomma Galligani e il Sezzante hanno guettato sulla fascia sinistra una serie di scambi dall'alto valore tempo, Galligani sta facendo un parsire, la difesa ospite, lo mette in centro il pallone, in centro il mare a Fratini, Fratini, vede! Gallegani, tiro, rete! Giorgio! Grazie a tutti.